Stasera, alle 23.30, in esclusiva su canale 5, il nuovo videoclip di Eddie Martin. Non è facile scegliere un'auto. Dovete attraversare le mode, lasciarvi alle spalle molte promesse e arrivare a distinguere le cose che contano. Nuova Opel Vectra, nuova nello stile, ancora più avanti nella sicurezza e negli equipaggiamenti, per un piacere di guida totale. Una tecnologia che non ha bisogno di tante parole. Nuova Opel Vectra, quando le mode dettano legge, saper scegliere diventa un'arte. Cara, il signor François, madame. I guanti di leda non sono guanti normali, perché l'interno è in puro cotone, così lascio le mani morbide e soprattutto fresche. Cara, guanti di leda, cotone sulla pelle. I gialli vi leda. Nuovi panni gialli vi leda, pavimenti. Per un pulito accurato, senza traccia di sporco. Nuovi panni gialli vi leda, su tutto contatto. Il freddo è una tortura per i denti sensibili. Ma oggi c'è Nuovo AZ Denti Sensibili, con ProSensil. Protegge come un velo i denti sensibili e aiuta a rinforzarne lo smalto. Nuovo AZ, difesa più completa per denti sensibili. Anche il tuo dentista se ne accorgerà. Io lavoro con i più grandi esperti del bagnato e tenerli asciutti non è uno scherzo. Lo vedo ogni giorno all'asilo e con mio figlio Michele, che sta sempre con me. Per questo, dopo anni di esperienza, oggi mi fido dei Pampers Fesis. Anche la figlia della mia amica ha iniziato in maternità con i Pampers primi giorni. Quelli con l'incavo. Adesso Michele è nella fase primi passi e quanto sono buoni l'ho scoperto tornando dalle vacanze. Michele aveva bevuto moltissimo e l'ho lasciato dormire fino a tarda mattina, anche se avevo paura che fosse tutto bagnato. Ma quando l'ho controllato, beh, era perfettamente asciutto. Perché i Pampers Fesis hanno il sigilla pipì che imprigiona il bagnato e non lo lascia più, neanche se li strizzi. Per questo il loro asciutto è imbattibile. I Pampers Fesis li consiglierei a tutte, perché tengono i bambini asciutti in ogni fase della loro crescita. Pampers Fesis Boy e Girl, fase dopo fase, anche bagnati restano asciutti. Piero e Alberto Angela hanno ricostruito per voi la storia della vita sulla Terra, uno straordinario libro mondadori. Marco Masini, il nuovo album. Innamorerai Ciao! Ciao! Ma che hai? Non lo sopporto più. Ti capisco. A volte tuo fratello è insopportabile. Ma no, parlavo del mio raffreddore. Credo di avere anche un po' di febbre. Aspetta, ho qualcosa che può aiutarti. Neo-Uniplus C effervescente. Ma andrà bene? Ah, certo! Ieri stavo come te. Hai primi sintomi di raffreddore. Neo-Uniplus. Da oggi anche in compresse effervescenti con vitamina C. Da sollievo dalla febbre e dalle malattie da raffreddamento. Evitare l'uso prolungato può avere effetti collaterali. Allora, va meglio oggi? Meglio. Beautiful. Neo-Uniplus C effervescente. Dai laboratori farmaceutici Angelini. Dopo un panino veloce con l'occhio all'orologio. Soprattutto Fernet Branca. Mastro Lindo presenta un'altra freschezza. Mastro Lindo freschezza blu. Lo stesso splendore con un uovo profumo. E una cascata di pulito e di tanta freschezza che senti in tutta la casa. Da oggi Mastro Lindo in due fragranze. Freschezza al limone e nuova freschezza blu. Mastro Lindo. Pulito che splende più facilmente. Qual è il miglior giorno per morire? Ogni settimana uno di loro commette un omicidio. E io ve lo servo su un piatto d'argento. Il delitto è servito di sabato. Tra poco, su Canale 5. Senta, io scendo qui. Mi deve nove dollari.